Ben trovati! 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 dove c'è una selezione nella nascita, c'è un eugenismo che si sta realmente creando in cui solo l'uomo perfetto può vivere. Bene nel mondo il Signore ci ricorda che non è possibile, che non si potrebbe fare una cosa del genere. L'uno e l'altro vanno insieme perché dentro di noi è la stessa cosa. E' inevitabile dover accogliere il Signore. Più avremo seme buono, meno ci sarà tizzania. Cerchiamo allora di aprire il nostro cuore alla presenza del Signore, a lasciarlo prendere tutto lo spazio per poter dire come San Paolo non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.